La voce del padrino, con Luca nella struggente interpretazione di Luca, una prova d'attore di cui si parla ancora oggi. Completamente dimenticato invece Paolo nella parte di Paolo, con loro eccezionalmente in un ruolo femminile, Susie Wender. Sono una donna di casa, sono una donna all'antica, quando non faccio la spesa, guardo Magalli e la ruta. Sono una donna modesta, ogni domenica in chiesa, io non mi monto la testa, il mio marito la sposa. Una spazzolata di lato, una innamidata di qua, una passatina di qua, e una lavatrice di qua. In casa è tutto pulito, sento arrivare mio marito. E che minchia, sempre si basa lì nel saluto, forza via in palestra, e che cavolo. Cazzo, lei il curriculum non l'ha lasciato? Ma i cietti. E allora la richiamiamo noi, fuori, via! Cazzo, ti devo dire una cosa incredibile. Sono stato dalla magia. Dimi, amore, sì. E mi ha detto una cosa incredibile. Dimi, amore, parla. Mia magia mi ha detto. Dimi, amore, come è successo? Amore, parla. Sì. Sono stato dalla mia magia. Amore, parla, ti ricordi cosa ho detto, prete? Dobbiamo parlare. E allora ho bisogno di sapere, per sapere quello che... Sono stato dalla mia magia, mi ha detto. Che l'ultima volta che ho detto. Amore, ti ho detto, su, parla. Il dialogo è fondamentale. Io mi sento fatto, prete, non parla. Sono stato dalla mia magia. Amore, ti ho detto... E mi ha detto... E mi fa volare il cielo, che cazzo? Ma lì sempre tu!